Si torna in aula presso il palazzo del Tribunale di Arezzo riguardo il filone d'inchiesta sulla vecchia banca Etruria per l'ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza. Sul banco degli imputati l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex DG Luca Bronchi e l'ex dirigente Davide Canestri. Nell'aula del GUP Anna Maria Loprete il PM Roberto Rossi ha presentato le proprie richieste nella sua requisitoria. Due anni e otto mesi per Fornasari e Bronchi, due anni per Canestri. Questa appunto la richiesta di pena presentata da Rossi. Nell'udienza si è anche espressa l'unica parte civile ovvero Banca Italia. L'avvocato Raffaele D'Ambrosio ha richiesto 327 mila euro di provvisionali danni come liquidazione delle spese di ispezione più i danni di immagine non quantificati. Per venerdì 21 ottobre sono previste le arringhe difensive. Il verdetto dovrebbe arrivare tra una settimana, il 26 ottobre giorno in cui è stata fissata già un'altra udienza del processo.